eccoci qua pronti per fare il nostro come si come si come dire il nostro trattato insomma dobbiamo già risettare io vorrei però come posso fare ecco qua take home state ok molto bene questa la voglio poi potrei anche liberare tutto ma non voglio le vecchie comunie le vecchie comunie prendiamoci anche queste isolette così se dobbiamo andare in vacanza ci andiamo senza problemi è importante per chi non vorrebbe queste isolette tutte per sé l'anzebaijan ce lo facciamo ma si riprendiamo ma che c'è freddo con ucraina ma si riprendiamo ok prendiamoci tutto questo che possiamo prendere più ancora non ne so più edica si prende ovviamente questo e questo chi se lo prende no bandiamoci tutto va bene ora vediamo vediamo ci siamo ci siamo calma ma giugosnavia siete pazzi a noi ragazzi vediamo 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 un po noi abbiamo tutta l'africa quasi tutta l'africa alcune colonie molto bene abbiamo abbiamo di nuovo la nostra nostro non d'italia più come dire israel ammazza più tutto insomma più tutto più tutto abbiamo rimanda come puppet abbiamo anche colonie ragazzi penso che la serie finisce qui che succede vabbè prendiamo prima tutte queste puntiamo tutti da una parte bene bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto nel caso vi sia piaciuto mettete mi piace commentate commentate condividete iscriviti iscriviti al canale e soprattutto ditemi se volete un'altra serie senza fare un 4 con un'altra mod oppure se fare un altro gioco perchè ora che ho finito questa campagna non so più cosa fare ditemi dei consigli su qualche gioco non so che riesca però ad essere in visato con obs perchè con fraps o con dixtory pesano monti giga ecco grazie per aver visto questo video e grazie della visione